Jim Jim Bizarrage è una serie di successo che parla di Jonathan Jojo e di tutti gli altri Jojo della famiglia. Segui le avventure dei Jojo mentre usano la respirazione magica per scazzottarsi con dei vampiri, prima che siano dei fantasmi a farlo al posto loro. Ogni personaggio ha un potere speciale chiamato Stand. Gli Stand hanno caratteristiche uniche e bizzarre basate sui trivia che l'autore ha trovato girando a caso su Wikipedia. Ad esempio, lo sapevi che essere in assenza di gravità ti fa pisciare sotto perché ai tuoi reni sembra che tu abbia troppo sangue in circolo? Certo che non lo sapevi! Perché è falso. Alcuni Stand hanno poteri incredibili come fermare il tempo di evocare zombie invisibili mentre altri o uccidono il possessore o lo intrappolano in un traliccio. Il che vuol dire che alcuni combattimenti sono avvincenti mentre altri si trascinano all'infinito e mi fanno desiderare la morte. Segui tutti gli otto Jojo nelle loro avventure e guarda come vengono avvicinati da una serie di stramboidi che ci vengono presentati come fottuti sociopatici ma una volta sconfitti diventano amici e la loro personalità cambia. E a volte anche i loro poteri. Unendo i loro poteri possono starsene a guardare e commentare mentre i loro amici combattono fino alla morte. I loro Stand saranno abbastanza potenti da sconfiggere nemici terribili come Dio, Dio di nuovo, il fidanzato di Dio, i figli di Dio, Dio versione di Rosauro E il presidente degli Stati Uniti d'America. Non importa che Jojo sia, ciò che conta sono i loro buffi combattimenti. Qual è la tua parte preferita? Jojo e il guerriero! Indiana Jojo e i nazisti amichevoli! La peggior vacanza di sempre! David Bowie passione omicidi! Non ho idea di come funzioni il clima in Florida! Gara di cavalli con Gesù! David Bowie passione amnesia! E solo per voi abbiamo una preview esclusiva della parte 9 di Jojo! Aspetto un secondo, Joanne! Qualcosa non va! C'è qualcosa di strada in quel ratto! Joanne! È coperta di punture nonostante fosse un'esplosione! Non preoccuparti, sto bene! Quei proiettili mi è solo colpita in testa dopo aver attraversato diversi cani! Ehi tu! Che cosa hai intenzione di fare? Ci sei tu dietro a tutto questo! Non è vero? Esatto! Sono stato io! Un tizio vestito di pelle! Il mio stand Smash Mouth! Mi dà l'abilità di controllare i denti delle altre persone! Se solo potessi rendermi utile in qualche modo! Usa il tuo stand, coglione! Con un cast di personaggi coloratissimi che si chiamano quasi come le tue band preferite per evitare problemi di copyright. Molti sono dei semplici cartonati, ma di quelli di cui ti affezioni, che ti porti dietro per tutto il viaggio, che magari si rovinano un pochino nel mentre, qua e là, tipo ai suoi occhi graffiati. Ma comunque a te piace! Ti va bene così? Dio, hai rotto il mio bellissimo cartonato! Che tu sia maledetto Dio! A volte i personaggi ottengono nuovi poteri a caso, mentre altre volte li dimenticano del tutto. Ragazzi, certo che è difficile trovare il serial killer. Sarebbe bello conoscere qualcuno che abbia il potere di rintracciare il nemico, magari utilizzando il suo stand. Pazienza! In JoJo tutti sono all'ultima moda, il che significa che i loro vestiti sembrano squarciati dalle lame di un rasoio. Prendite ad esempio questo povero ragazzo vestito da formaggio, ma non piangete per lui, perché come consolazione lo hanno buttato fuori interamente dalla serie. E se questo non basta distrarvi dai suoi abiti, forse ci riuscirà la scena più iconica e amata di pissing nella storia degli anime! Interrompiamo il pissing per mostrarvi altre scene della nonna stagione di JoJo. Ah, meno male che il mio portafoglio vuoto si è agganciato a questo ramo, mi sarei spiaccicata al suolo. Io non canterei, Vittoria, perché il mio stand, Johnny Cash, è presentato da Verve! Che? Esattamente! Utilizzando le offerte di Verve puoi guardare i tuoi anime preferiti da Crunchyroll, Animation, Roster Teeth, Frederator e altri, tutti sulla stessa piattaforma, facendoti risparmiare un casino! No, questo è il potere di Johnny Cash! Tasche, conti bancari, libretti, posso riempire tutto con i saldi, guarda! Il portafogli! È troppo pesante ora, il ramo non reggerà! Già, perché non mi aiuti? No, sto a posto così. E non solo! Posso distrarti con lo streaming senza pubblicità dei tuoi show preferiti, tutto su una piattaforma! Come le bizzarre avventure di JoJo! Non mi sembra che il tuo stand abbia dei poteri molto coerenti. Sì, sembra che tu te li stia inventando. Ma davvero? Potrete scoprirlo voi stessi con una prova gratuita, cliccando il link in descrizione! E non solo! Posso distrarti con lo show senza... Perché mi viene lo show? Perché?